Con la decisione della Corte di Cassazione diventa definitiva la condanna a 23 anni di carcere per l'anarchico pescarese Alfredo Cospito nel procedimento sull'attentato alla ex caserma Lievi Carabinieri di Fossano nel 2006. I magistrati della sesta sezione hanno rigettato i ricorsi della Procura Generale di Torino e delle difese come sollecitato dal Procuratore Generale Perla Lori. Cospito dal mese di giugno si trova nel carcere di Sassari al regime del 41 bis dopo aver trascorso oltre quattro mesi nel penitenziario di Opera di Milano dove era stato trasferito per motivi di salute in seguito allo sciopero della fame portato avanti per diversi mesi per protestare contro il regime del carcere duro. La Suprema Corte ha accolto la richiesta del Procuratore Generale che aveva chiesto di confermare la condanna emessa nel giugno del 2023 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Il procedimento rappresenta il troncone principale del maxiprocesso alla FAI-FRI, gruppo anarchico cui è attribuita una lunga serie di attacchi avvenuti tra il 2003 e il 2016. Sul regime del carcere duro la Cassazione il 20 marzo aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata dai difensori dell'anarchico contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che il 23 ottobre aveva confermato il 41 bis.